In Calabria, gli attentati della criminalità organizzata contro gli imprenditori del Cosentino. Le ultime notizie da Cosenza con Viviana Spinella. Atti intimidatori contro imprese, messaggi inquietanti contro le attività economiche del territorio. I comuni dell'Oionio e del Tirreno Cosentino al centro di una vera e propria escalation criminale che preoccupa cittadini e forze dell'ordine. A Cetraro, teatro in passato di guerre di mafia, un ordigno rudimentale con due chili e mezzo di tritolo è stato ritrovato davanti a un'azienda di produzioni grafiche a due passi da un supermercato. Se fosse esploso avrebbe potuto procurare una strage immediata. La reazione della comunità non ci faremo intimidire, ha detto il sindaco. Nella piana di Sibari si indaga sulla matrice dolosa di un incendio appiccato a un hotel di Cassano che ha costretto i vacanzieri al fuggi-fuggi. Gli autori hanno usato liquido infiammabile e firmato l'attentato con proiettili di pistola. Il turismo e gli appalti che fanno gola alla criminalità. Nei giorni precedenti numerose intimidazioni contro la ditta impegnata nella realizzazione del terzo megalotto della statale 106 Ionica. In meno di 20 giorni ben tre atti incendiari hanno distrutto i mezzi in cantiere. E da Cosenza è tutto, linea Napoli.